Roberto Mancini siamo a poche ore dalla sfida contro Malta, quella di questa sera rientra nelle classiche partite dove si ha tutto da perdere? Sì esattamente così, queste sono partite di questo tipo dove si ha tutto da perdere quindi bisogna avere la massima concentrazione perché comunque tre punti sono importanti e non bisogna prendersi nessun rischio. La notte le ha portato qualche consiglio particolare? No insomma quando si gioca una partita e magari qualcosa non va bene si ha magari qualche giorno per pensare a quello che si può migliorare però poi dopo vanno viste anche le cose in modo giusto che forse dopo la partita non si riesce a giudicare bene e anche della panchina quindi ci sono state molte cose buone con qualche errore secondo me io credo che se noi riusciamo a fare quello che abbiamo fatto sia nei primi 15 minuti, subire il gol e tutto al secondo tempo insomma credo che avremo delle grandi soddisfazioni. Roberto Mancini a fine partita sarà soddisfatto se? Se andiamo via di qua stasera con tre punti perché comunque i tre punti contro Malta valgono quanto i tre punti contro l'Inghilterra. Ha parlato di diversi cambi, ha già comunicato la formazione alla squadra? No no non ancora perché anche stamattina vogliamo valutare le condizioni dei ragazzi e perché comunque insomma sono passati neanche tre giorni e quindi la partita è stata molto faticosa però sicuramente ci saranno diversi cambi. Manca un po' di autostima al gruppo, c'è una vittoria convincente netta aiuterebbe soprattutto sotto quel punto di vista? No io non credo che manchi un po' di autostima e purtroppo a volte insomma quando si gioca in una partita così importanti come l'Italia Inghilterra insomma dopo tante volte che li battiamo può capitare anche di perderla però se uno va a vedere di nuovo la partita come abbiamo fatto noi si vede che poi alla fine come ho detto prima parte degli errori proprio dove abbiamo concesso i gol e un po' di problemi subito dopo l'1-0 perché non riuscivamo magari andare a pressare bene quindi uscivano facilmente non è che ci sia stata una grande supremazia alla fine non è un risultato giusto ma questo va accettato quindi ci andremo a vincere a Wembley. Arrabbiato, deluso, speranzoso o tranquillo? Mi dica un aggettivo del Mancini di oggi. No 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 sono tranquillo sono tranquillo e insomma siamo alla prima partita ne mancano sette ancora lunga la strada e saranno tante partite difficili quindi insomma avremo modo di rifarci. Ieri Spinazzolo ha compiuto 30 anni le ha fatto il regalo? No beh intanto gli ha fatto gli auguri insomma credo che oramai sia molto tempo che compie gli anni quando siamo in ritiro per le partite di marzo quindi ci fa piacere soprattutto che lui sia qua. Retegui è la sorpresa di questo raduno averlo visto da vicino le ha confermato le impressioni che aveva prima di convocarlo? Sì le impressioni sono quelle perché poi comunque lo seguivamo da un po' e credo che abbia bisogno di tempo perché comunque non è una cosa così semplice essere caltapultato dall'Argentina all'Italia in quattro giorni quindi ha bisogno di tempo. Le ha fatto già assaggiare il mate? No io l'avevo già assaggiato il mate ma non è che è una bevanda che mi piace tanto. Si resta sul tè o caffè? E' meglio. Il giudizio sull'eteghi mi permette di chiederle come è cambiato lo scouting della Nazionale oggi? Beh purtroppo è cambiato il mondo e quindi noi abbiamo perso una percentuale di italiani enorme nel nostro campionato quindi è tutto molto difficile, abbiamo dei giocatori che giocano con noi nelle nostre giovanili e poi sono arrivati quasi alla Nazionale e hanno cambiato, sono andati a giocare per altre nazionali quindi noi ormai dobbiamo fare lo stesso, lo fanno tutte le nazionali non bisogna scandalizzarsi di questo, si vuole fare tutto uguale quindi c'è la possibilità di farlo ci sono ragazzi che comunque hanno origini italiane e se sono bravi poi è chiaro che noi speriamo di averne molti in Italia però mi sembra che in questo momento sia abbastanza difficile. Ha seguito l'Under 21 sui canali ufficiali della federazione, la vittoria in Serbia? Sì, 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 ma l'Under 21 ha dei giocatori bravi, giocatori che potrebbero essere già con noi però chiaramente anche loro hanno delle partite importanti, devono qualificarsi anche loro alle Olimpiadi quindi anche per giugno non sarà così semplice però vedremo come fare. Capitolo giovani, una battaglia che alla fine vincerà? Noi stiamo cercando di inserirli e non è neanche così semplice perché non è che possiamo inserirli tutti insieme in questi mesi, dopo l'Europeo, abbiamo inserito tanti e sono giocatori che hanno grandi prospettive però è chiaro che è anche importante che loro possano giocare nel loro club. Le chiedo un commento all'analisi di Arrigo Sacchi uscita questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Sicuramente che i club debbano puntare sui giocatori italiani, visto che comunque ce ne sono per poterli fare crescere e migliorare, questo è certo. Poi che la Natura Nazionale purtroppo non abbia grande tempo per allenare, anche questa è una certezza ma da oramai da decenni e in questi ultimi anni ancora di più perché praticamente quando noi ci troviamo non ci alleniamo quasi mai, addirittura a volte ci sono anche tre partite in dieci giorni quindi è praticamente impossibile. Zagnolo la ringrazia per avergli consigliato Istanbul e ha detto che alla Nazionale tiene tanto e che il suo obiettivo è quello di essere le Final Four di Nations League. Sì, adesso non è stato convocato perché aveva giocato veramente poco, quindi però è un giocatore che come tutti gli altri ragazzi più giovani che sono stati chiamati oggi, insomma che sono sempre nel nostro radar, sanno che ritorneranno e dipende sempre da loro, però Zagnolo è un giocatore con grandi qualità.